Per gli amanti del sonno non sarà un bel risveglio quello che li attende domani mattina, infatti dalle ore 2 di questa notte ritorna l'ora legale, lancette degli orologi spostate di 60 minuti in avanti. L'acquisizione di un'ora di luce solare in più, specie per i primi giorni, sarà a discapito del sonno. Questo piccolo disorientamento consentirà però un risparmio di consumi di energia elettrica pari a 556,7 milioni di kilowattora. In termini di costi, secondo la stima di Terna, il risparmio per il 2014 sarà di circa 92,6 milioni di euro. Dal 2004 al 2013 l'Italia ha risparmiato circa 6,6 miliardi di kilowattora, circa 950 milioni di euro. L'ora legale venne introdotta per la prima volta in Italia nel 1916, adottata ufficialmente nel 1965, aveva una durata di 4 mesi, periodo che nel 1981 fu esteso a 6 mesi, fino ad arrivare agli attuali 7 mesi sanciti da un'apposita legge del 1996. L'appuntamento con l'ora solare quindi è fissato per la notte tra il 25 e 26 ottobre prossimi. Ricordate stanotte, prima di andare a dormire, di spostare avanti le lancette dei vostri orologi. E se per un giorno dormiremo 60 minuti in meno, pazienza, ci faremo l'abitudine.